Ok come potete vedere dal grafico quasi il 50% di voi non è iscritto quindi iscrivetevi ragazzi Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Paper Mario di Origami King Ok ve lo preannuncio se voi avete visto no se avete letto la descrizione dell'ultimo video Probabilmente sapete cosa andrò a fare E ora ve lo spiego in due parole Era un po' di tempo che accumulavo roba da fare a Borgotod e siccome ci sono passato ho detto Dai vi sticavo di più di una volta andiamo a Borgotod prendiamo tutto e basta E quindi oggi siamo qua a Borgotod appunto a prendere delle cose Sì lo so non volevo prendere Wix per quello che è Bosco Wix io so che non si può prendere ora e voglio fare tutto insieme per evitare disastri Sì quindi ho non ho un po' di idea su come andare precisamente quindi dirò Parto dal centro e poi vado a sinistra e poi fado un giro tipo orario Credo di fare così non so vedrò ora Insomma cercherò un po' di fare come mi torna ma anche in base a come viene Cioè concordo col Todd Casa Dolce Casa Chi esce Due sensi Il senso da gamer E l'altro senso del V-V-V-V-V-Sus Voi avete capito che sentendo ma non lo voglio dire Non lo voglio dire per non essere non copiltato ma Sì tipo Che secondo lo fa politizzarlo Come che succede ma vabbè avete capito Per colpa del V-V-Sus V-V-Sus Eh sì Avete capito Detto che anche il Quello si dovrebbe chiamare V-V-Sus Vabbè Cioè diciamo qualcosa Quello che cercavamo credo Ho l'unico strappo che mancavamo da tempo Qui e con questo sono due le volte che mi è salvato Spero proprio che tu non le debba ripetere più questa performance Eh grazie Eh grazie No che è qualcosa Ora non vado a comprare gli accessori perché è una cosa del 102% Quindi non lo Non li posso comprare Quindi beh sì a quanto pare no Non lo so E fa un po' di vero Ok qui ci rimangono solo tesori da collezione Quindi So che molti tesori Sono dove si Cioè so dove molti tesori si prendano Ma non prenderemo solo i collezionabili Oggi andremo anche a fare qualcosa su nel museo Tipo e altro Però mi prendo ancora Quali Niente Poi Il problema grosso è che non ho Cioè so che dove sono la maggior parte ma non si possono prendere quelli della maggior parte Cioè tipo metà sì e metà no Perché Ehm Credo che quello semplicemente non si possa aprire per un po' di tempo Non so quanto Vabbè Però ho fatto sta che Sì A quanto pare dobbiamo Caricato in orario Quindi caricato male O cose simili Ma il problema è che ho perso veramente troppo tempo Tutto con tutti Tutto con tutti i tesori da virgolette Ma anch'io Non penso di Cioè sapete cosa ne pensi della scuola Che sia Inutile per me Perché io Vabbè Allora io Possiamo mettere qua Perché possiamo Mettere qua Ah è vero c'era il tizio Ehm Ehm Lì di Aspettate che mi viene Che mi venga Ehm Del deserto No Della città di Fungis Dell'insegna Numero 13 Capanna Ehm Ok Ok Tu sei Ah ma ragazzi ancora per averci aiutato Prima città di Fungis Sei in debito con te Certo queste piccole segne È la mia riconoscenza Uo Oh mamma mia Sono Ah grazie Uno Due Tre Quattro Cinque Sette Sette Otto Nove Dieci Dieci per mille Diecimila monete ragazzi Grazie Cioè Sei Grazie Sei dai Già lo so Come tutti gli atti Tod Ma per una volta che Mi danno solo più di una moneta Che poi Tra l'altro Ne richiedono molte di più Per farsi partecipare Quindi Effettivamente per una volta Ci sta dai Ehm Qui possiamo andare Giù O a destra Ma io preferisco andare a destra Perché c'è più roba C'è più roba Quindi a quanto fare Non ci è servito a niente Perfetto Affetto E' stato quello di più Strano 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 Va bello Ehm Ma non va bene Non c'è più Non c'è più Tutti Non c'è più Solo i boss Che abbiamo già sbloccato Nel studio di Bastelli Lastico Perfetto No I cartomagni Non valgono Perché se non sbagliamano Tipo Nei tempi Profi Ah e Scusate se Nei video scorsi Li ho chiamati In modo errato E Lo scrivevo sempre così Cioè Tipo Dicevo Tempio Nel cartomagno Nel fuoco Quando era Kofu Delle fiamme O tempio Nel cartomagno Dell'acqua Quando stavano Assentuano Delle acque Io effettivamente Non me lo ricordavo E Non l'ho scritto Nel titolo Però Probabilmente Ehm L'ho detto Quindi Mi dispiace Cioè Non mi metti sempre Perché però Si dai E dunque L'errore Che Dovrei In acqua Ehm In questo preciso Qualcosa Aspetta Mi sa che ce l'ho Io Si La fonte Il cuore Ah Aspetta Un secondo Ehm Qualcuno Lo lancerà Ok Lasciate che mi spieghi Il cuore che noi avevamo Insechito E il cuore Che intende lui Ehm No Ehm Questo Ehm Volevo farlo dopo Non volevo andare lì Sinceramente Perché è un po' Una nottura Ma Sicuramente Se lo mette in questo modo Si Lì Ci andremo Probabilmente Più tardi Ma Uno no E ora Ehm Andremo a vedere Il resto di attività E poi Infine Cioè Ehm Probabilmente Useremo Tutti a fare il museo E qua Che altro Vabbè Ehm Quindi dove c'è C'è il Cosa del comando Vero C'è anche una cosa Che dovevo prendere Da qua Prendere Tra virgolette Perché in realtà Ehm E lui che me la dava Ma Più che altro È perché Dove Cioè Sì No Ehi Mario Ok Sì ecco Semplificatore Questo tipice Semplificatore Hai impicciato Che Sì Allora Devo di Allora 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 Per la verità Il semplificatore Dipende A volte Può essere utile Per le battaglie A volte Sappiamo Precisamente Però Verso la fine Sapete Precisamente Quali sono I costi Ma non sapete Come farci Arrivare Per tutti E' quella La cosa Con loro Rimostrata Direi Quindi Non è tanto Il semplificatore In sé per sé Quanto Vabbè La cosa Ok L'anno Ora Noi Dobbiamo andare qua A vedere Cosa Non avevamo fatto L'ultima volta Cioè E le ultime volte Direi Più che altro Ok Avevamo preso Questi Aspetta un secondo Prendo Pazzoletto Ah Il freddo rimuove Il nastro blu Quindi E poi il nastro giallo Ovviamente Troppo No No Fermo Fermo Ok Come ho già detto Nella scorsa puntata Se me la foste persa Andatela a vedere Io farò vedere Tutti questi Ma non ora Verso la fine del gioco Cioè Come posso dire Come il bonus Tra virgolette Che se non è Cioè si è un bonus Perché non dovete vederlo Perciò Dovete solo Comprarli Quindi Quindi Sì Scusate se Oggi Tipo Sono un po' Stanco E perché Sono stato qui Sul tempo Un video lezione E ora basta Usare Scusate Perché Giusto Sono stato Un video lezione Che ho fatto Tutti Cioè Tra Però Non posso usarla Per tutto Diciamo Ok Ora nemmo Il nastro giallo Uh No Ok 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 Ok, no, era in basso E poi a destra Wow, ci sono davvero tanti Pensavo fossero di meno Ma vabbè Ah, è tipo l'animazione Che cosa è questo? Ah, è come si pensava Era uno sketch praticamente Della tomba Di capitanti odd Ok, tutto Ah, si leggerò anche le varie distinzioni Quindi se vi interessa Ora andiamo nelle altre stanze Saranno più lunghe perché No, forse non lo so Potrebbero essere lunghe o più corte Eh no, ok, ora lo leggo perché non l'ho letto Dall'inizio che mi leggiamo Questa è una mostra speciale che abbiamo Vi piacere presentare qui al Museo Chapignan Ne tempo di meno che una raccolta di magnifici e bizzarri Tutto ad origami Più sempre salverai fuori più ne appariranno qui nella nostra collezione E ti invito ad ammirare la nostra magnifica selezione per il tutto Ok, io semplicemente faccio così e non lo guardo Per quanto ti ha detto Solo che stavolta non dovete cliccare Questarli tra virgolette Ok, sì Quando tutti sono Diventano da gialli Normali Significa che li avete presi tutti Li avete Tra virgolette Guardate tutti No C'era Ah, tutto qua Eh, cioè no Qua no In realtà ci sono anche quelli Il nastro viola e il nastro verde Ma vabbè Sono confuso In questo momento non capisco perché Già il simbolo si è apporto tutto Credo di aver capito circa Ci sono Forse ci vuole dire che ci sono delle cose che Prenderemo anche il nastro viola E quindi ce la fa già vedere Ma non li possiamo vedere perché non abbiamo ancora iniziato il nastro viola Tipo Eh, voglio vedere il mod... No, che in cui non ho capito Aspetta un secondo me Scusate che... Forse è un po' meglio come illuminazione Leggi di descrizione Capita anche a te di raccogliere così tanti oggetti di collezioni che li ha aperta nel conto E vengono usati qui Non è qui per aiutare Possiamo osservare i gratis Sì, vostri tesori di collezioni Sì, vabbè, è meglio per loro Ok, però vabbè Che potete vedere tutto ciò che avete raccontato e scoprire come sbloccare altri tesori I collezionisti più rigorosi potrebbero anche tenere uno o due trofei per la loro negazione Sì, se li trovate tutti Eh, vi da il trofeo Un trofeo Continuate con alcuni tesori Poi tornate qui per ammigliare ovviamente le vostre collezioni Ed è qua appunto che Eh, vi dico Ci sono anche i trofei Che è appunto ciò che vi dicevo Cioè I trofei che loro mettono Sono Sono quelli per tutti Li trovate qua praticamente Qui Vi dice anche se non sapete dove Eh, dove si trova Questo per esempio So che non si può prendere Quindi non c'è bisogno che me lo dici E Eh Aspetta c'è scritto No Ok Conferma Non vi dice dove l'avete trovato Dopo che l'avete fatto Ma so che Sì Allora Questi 4, 5, 6 Si possono Non ci posso prendere per ora Eh Tempi della Tempi della terra Torre del vedere Si può prendere Torre del vedere Sì anche Tempi della terra Solo che non l'ho preso E me lo sono dimenticato Perfetto Quando ci ripasso Poi lo rifarò Ma Non ci ripasserò Probabilmente Princi Princi Principe Sapice Questo so che non si può prendere Per ora E qui ha fatto Ora andiamo da 61 a 120 Ok Ok Poi ci c'è Questo perché ancora non abbiamo sbloccato E quindi Presumo che Eh sì Infatti c'è Non c'è quella stelina Che significa Anche in realtà Qui vi faccio vedere Qui a meno che Non siete così tanto lontani Da non sapere Come in questo Che cos'è E quindi non vi può fare spoiler Ah qui Vince 200 battaglie È semplicemente una questione di tempo E non ci vorrà Neanche tanto Però è per questo che dovete fare battaglia Perché vi servono anche per i trafei 300 meno monete Ok Quanto sono Non lo so Spero tanto Colpisci tutti i blocchi Punto indrogativo È uno di quei Quelle cose che non si può fare Se non verso la fine Cioè dovete farlo continuamente Ma non lo potete sbloccare Al 100% Fino alla fine Questo non si può fare per ora Perché è in una certa zona In cui ci sono entrambi Questo però non lo so Non me lo ricordo Anelli, monelli E 16 livelli contro il tempo Li faccio verso la fine Cioè tipo prima del boss finale O dopo Non lo so Quello Non lo so qual è Ma non voglio dirvelo Completa la pinocchateca E quella cosa La cosa Destra 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 Salve tutti i todorigami Tutti i tesori Da collezione Galleria E audioteca Ok Come potete vedere Sono solo due Ma io lo so Benissimo E la maggior parte E la maggior parte Di questi O si sblocca Ma sono cose che sono Che si fanno in genere Alla fine Cioè Si possono sbloccare Intendo O Se si sblocca Non sbloccare Ora O Non si possono sbloccare Ora E con gran piacere Che vi sentiamo Una delle coalizioni Che danno maggior gusto Al nostro museo È la galleria Dei personaggi Origami Vi troverai Origami In corso della tua avventura Ora Questa sconfitta Un soldato Origami Battaglia Una corse E veniamo qui Un suo esemplare Per i vostri Speriamo che liberate Queste Granator Magnifico Per una volta Senza Dove tenere Allora Qui Come potete vedere Ci sono quelli Ognuno Ogni nastro E quindi Se voi pensate Che non si ripetono Beh Vi sbagliate Scherzi a parte Ci c'era Questo è il motivo Per cui avevo detto E vedete Che c'è scritto 16 su 17 Perché c'è uno Che è appunto Col mare il truccello Che non so perché Non è sparito L'ho Qualc'è una volta È sparito Per sempre No per ora Quindi Dovremo aspettare Credo Ehm Questa 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 è una Genova Si Ehm No Ok c'è un'altra Pagina Ah certo Ah uno Ehm Qui ci sono i cartomagni Che non sono 5 Ma sono 4 Appunto Ehm Acqua Fuoco E Aria No in realtà Non è aria È un aria Per evitare spawn Ehm Il che è ambiguo Perché una 6 Sono 5 Anche se io avrei fatto 6 Perché i colori D'acqua barina Sono 6 E non Rompete La ragione Lo so che non esistono I tolto d'arancione C'è C'erano tempo Ma Ci sono istinti Non lo so Prendo le parole Semplicemente Hanno tolto l'arancione E' un top Caro visitatore Benvenuti alla nostra discoteca Puoi ascoltare Tutti i brani Che incontri Finora E' la tua avventura Naturalmente Posso contare La tua espoluzione E' la tua collezione Di brownie Brani Brani Aumenteranno Brownie Ehm Ehm Specifico una volta riparati Tutti gli stappi stappi Di una certa area E risponderei i suoni Ah Ecco perché alcuni Tipo Non sapevo che erano Ma si Lo capivo Apri un po' Non dico Guarda Quasi tu hai Stappi stappi Riparati Stappi 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 Non posso Capire Che non è Basta Ok Come potete vedere Qua ne mancano Tipo un paio Vertiche Stappi 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 L'abbiamo presi Tutti Però in realtà Dobbiamo Finire Per prendere Tutto Quindi per ora Non possiamo Fare niente E poi in realtà Una cosa E' legata Alle musiche Di Borgotard Come cambiano Nel tempo Quindi per ora Non ci si può fare Niente Dovemo solo Spettare Due parole E c'è anche Il numero Quindi Fico Praticamente Unì Ve lo spiego In due parole Ogni nastro Se giunge Il nuovo strumento Più Lo strumento Iniziale Quando salvate Borgotard Dai pericoli Dai Bumba Carta Pessi Quindi Due parole Quando avete Fatto Tutti i nastri Avete sbloccato Tutti i strumenti Avesse sbloccato Tutte Le cinque Le versioni O sei Non mi ricordo Forse erano sette Dipende da Quante sono Ma non mi ricordo Qui ne mancano sette E non so perché Perché Avrà No Ho fatto No Ho fatto Il cento per cento Del nastro giallo Non lo ricordo Anche perché Avrò Questo Il titolo Di Quindi Non sono Quindi stupido Da non ricordarlo Quindi Come Ora Seriamente Vediamo un secondo 50% Nostro blu Giallo E vabbè Viola Sì l'ho preso Ho preso tutto Allora No Allora Non ha senso Infatti Mi sembrava Comunque Sì Questa Sarà una Putta E poi facciamo Niente Se non Andare in giro A Pare roba Cioè Praticamente Una cosa Per il cento per cento Quindi se Come titolo Non so cosa mettere Schriverò Una cavolata Tipo Ah Prima di Finire il dialog Cioè che stavo Dicendo Questo Andiamo qua Perché c'è Una invenzione Quindi se Oggi Si chiamerà La puntata Dei collezionabili O cosa così O cosa così Ehm Ha un senso Logico Non è così Per fare Qui potrei andare Effettivamente Al tempio della terra E smettere Di avere quel Bucco Di tesori E blocchi Che non so Perché c'è Ci sia Però io No Io semplicemente Non voglio farlo Cioè Sì Maga Sì Sarebbe stato Più che le man No Finalmente Mi ha preso Mi ha preso Mi ricercato Il gioco Il suo apice Rileva blocchi Nascosti Ci sono tutti Blocchi Nascosti Nei paracini Non resti Blocchi Non nascosti Questo Non è un accessorio Quindi potete usarlo Meno male Questa sua volta È completamente Una delle meccaniche Di gioco Su due Ti è Meccanico di gioco Grazie Rileva blocchi Nascosti E sia Satornete Questo dubbio Di non avere Pagazione È un'ottima idea Questa Che il professor Dotto Per dare Più interazione Con il giocatore Uscire dalla quarta paletta In parete I due parole Certice Come voi Tipo O cosa così In modo molto carino Però Ok Sì 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 La maggior parte Dei blocchi Sono Ops Scusato Vabbè La maggior parte Dei blocchi Sono Facili Oh Beh Se non facili Diciamo Sono Sono C'è un simbolo Quindi O Sono proprio Non Visibili Quindi non è un problema Ma a volte Sono invisibili E raramente Sono anche Che non si trovano Cioè Che non si trovano Con un simbolo sotto Grazie Ok Ci sono Ci sono più blocchi Ok Sono entrambi Non detto Pensavo fosse solo uno Sì Anche se c'è un Fiore in mezzo A nulla A volte Succede Me l'avevo Dimenticato Ti pensavo Dai Devo solo capire Quale Tra i due Ok Ok Oh no L'avevo Visto Scusate Non capisco Non capisco Non capisco Scusate Non capisco Non c'ho pensato Non c'era Sera anche a terra Ok Questo Facile Circa Non posso tipo Disattivarlo Attivarlo Dove sono Quei due Blocchi Per darmi No No Ok Vabbè Ci ho provato Sì A volte Dei blocchi Si possono trovare Sopra altri blocchi E' strano Ma vabbè Ottimo lavoro Mario Non c'è blocco al mondo Che ti possa suggerire ora Meno male Perché ce ne sono un paio Che ci bloccano E in genere Sono la cosa più fastidiosa Perché anche se Le altre Non li posso prendere So dove sono Questi invece Non mi ricordo Dove siano Non mi grazie Ah una cosa Nel caso il dispositivo Escondesse Non dirlo a nessuno Ho già cominciato la produzione Su alcune viste specializzate Grazie Molto simpatico Ma sì Visto che mancano ancora Quattro minuti Non ho voglia Di andare avanti Nella storia Per un minimo E poi Fermarmi Tanto so Che sono abbastanza sicuro Che anche il prossimo episodio Sarà Del crash Perché alla fine C'è qualcosa Però Diciamo Non è qualcosa Di tanto Diciamo Che più che altro Gira Chilo Chilo Vagherò Per il mare Per capire Dove dovrei Stare Giammi 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 E danno Questa è il mio primo Bello Che è il mio mondo Staccato Ah Mi falla Sì Che vero Che vero Mi ricorda Mi ricorda un sacco La canzone Di Candy Crush Non so Perché Perché non ha Assolutamente A che fare Con che mi crush In nessun modo Però Non me la ricorda E mancano Pochi minuti Alla fine Quindi credo Che dovrei Anche muovermi Muovi Muoti Prevate un secondo Ok Quindi dove potrebbero essere Ehm I tesori I tesori e i blocchi I tesori e i blocchi E no Scusate Che sto giocando Anche Super Paper Mario Di recente Quindi sono abbastanza Confuso Con I press E con Le idee Poi c'ho anche Che non mi ricordo I cosi Quindi non è il bello Leva blocchino Posti Sì Mi sa che non c'è niente In questa stanza Almeno Forse nella prossima O almeno Nel lontano Non so Diciamo che Ora Già Questa cosa è Sponfila E nonostante Ciò Però Sì Mi manca Lo stesso Quanti Un tesoro Probabilmente Un blocco Sì Però siccome Qui c'è Una cosa I livelli Cioè Intendo che Devo aspettare Perché Perché Salgano Quindi Io Lo disattivo Altrimenti Ci si mette Per me Questa Salvo Perché Probabilmente Sì Però Visto che Abbiamo iniziato Con i collezionabili Facciamolo Basta Cioè Voi A ritagliare Poi Cominciare Con i collezionabili Per un po E poi C'è la storia No No Io voglio fare Tutto No Che non è Questa stanza L'ho colpita Un po Male Quindi Vabbè Ok So Che O Sono qua O Sono sopra Ma Sono sopra Conoscendo Me E il gioco Me Per la Forn La Forn O Forn In Il C'è In questo Caso O Il gioco Perché A volte Si Metere Il gioco Però Si Delle Volte La mia Soprattutto Eh Vai Ecco Ho sempre Saputo Che Fosse No Se mi dici Che è una cavolata Tipo che a terra No Ok Oh No C'è Tu 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 Lo Twist Era un doppio Era uno doppio Beh Ora spese Dov'era La roba Nel tempio Della terra Credo Di Dire Che Stavolta C'è Volevo fare All'inizio Che Si Facesse Tutto Compreso Anche Quella Roba Molte Per Adondante Quindi Ci Fermiamo Qua C'è Prima Vado Al blocco Sempre Che Non Muoia E Faccio Rimuoverà Al Solito Non Muove Ecco Questa L'alvo Qua Probabilmente Ci Rivedremo Qua Ma La Prima Volta Inizieremo A Montel Bel Vedere Perché C'è Inizierimo Con Prendere Cosa Di Montel Bel Vedere Perché Non Non Voglio Dicare C'è Dai Mi Sono Dimenticato Di Prendere Il Cuore Quindi Anche Quello Ci vediamo La Prima Portata Ciao Prendere